È chiaro che la guerra in Ucraina ha causato un peggioramento delle prospettive di crescita e in particolare su questo pesano l'aumento dei prezzi dell'energia ma poi anche di altri beni, batterie prime, beni alimentari, ma pesa anche la fiducia che è diminuita, la fiducia dei consumatori, la fiducia degli investitori, che invece era molto positiva, molto viva all'inizio dell'anno e da allora è diminuita molto, non solo per l'inflazione, non solo per i rincari dell'energia e dei prezzi delle materie prime, ma anche proprio per la situazione in generale bellica. È una guerra vicina a noi e quindi i consumatori e anche in una certa misura le imprese vedono oggi un futuro meno positivo.